Sicurezza in tempi di feste. Le forze dell'ordine con la regia della questura in questi ultimi giorni hanno intensificato i controlli non solo a Vicenza ma in tutta la provincia. Sotto controllo ferrovie, strade, autostrade, stazioni degli autobus, palazzi istituzionali, musei, chiese. In particolare nella città del Palladio vengono passati al setaccio il quadrilatero di strade attorno alla stazione ferroviaria, Monteberico, Campomarzo, Ponte degli Angeli, la zona dell'ospedale San Bortolo e il quartiere di San Pio X. In campo 40 uomini e donne della questura, dei carabinieri, delle fiamme gialle, della polizia stradale e ferroviaria, oltre che nei vari centri del Vicentino delle rispettive polizie locali. Controllati 14 esercizi pubblici, 3 rivendite di fuochi d'artificio, 2 armerie, 181 veicoli, 323 persone di cui 98 con precedenti penali o di polizia. 9 i posti di controllo lungo le principali strade e ispezioni su tutti i principali treni in partenza e in arrivo nella stazione di Vicenza. Al termine dell'operazione, il questore Paolo Sartori ha firmato 9 fogli di via obbligatori nei confronti di personaggi gravati da precedenti e a cui è stato vietato di fare rientro a Vicenza per 3 anni. 6 misure di prevenzione personale, previste dal codice delle leggi antimafia, nei confronti di pregiudicati sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti. 8 i decreti di allontanamento del territorio nazionale nei confronti di stranieri illegali in Italia. 14 le revoche di permesso di soggiorno nei confronti di stranieri che non avevano più i requisiti per restare in Italia per aver commesso reati di vario genere. Per loro l'intimazione è uscire dal paese entro 15 giorni.